Eccoci qui e benvenuti a una nuova lezione! Oggi vediamo il croissant, il croissant francese. Il croissant, a differenza del cornetto, come abbiamo visto, non prevede l'uovo. Quindi la differenza principale tra croissant e cornetto, che il cornetto prevede le uova e generalmente è una pasta più ricca in grassi e in zuccheri, il croissant è un impasto più magro, più leggero, generalmente c'è meno burro nell'impasto e una pasta anche più leggera, quindi si chiama infatti un impasto magro. Già la differenza è questa, un impasto brioche tendenzialmente è un impasto molto ricco e la brioche tendenzialmente non viene sfogliata. L'impasto invece, come abbiamo visto il cornetto, è una pasta brioche, leggermente più magra, con l'incasso del burro e poi sfogliata. L'impasto del croissant invece è un impasto magro che non prevede le uova e generalmente il burro per l'incasso è maggiore. Andiamo a vedere un attimino quindi gli ingredienti per il croissant. Per il croissant abbiamo una farina di forza, in questo caso 13,5 di proteine. Per un uso professionale consiglio una farina da un 13-13,5 di proteine, è molto importante. Per un uso amatoriale, se volete fare meno fatica al mattarello, volete un cornetto che lievita più veloce, tagliate questa farina per un quarto, massimo per metà, con una farina debole e abbassate la percentuale proteica, avete un cornetto più di facile lievitazione e anche al mattarello fate meno fatica. Zucchero semolato, zucchero semolato normale, in questo caso il croissant va idratato o con acqua, o con latte, o con acqua e latte. Lievito di birra, in questo caso il lievito di birra utilizzo la dose massima che si può utilizzare, appunto perché lo faccio in un set domestico, il lievito di birra, utilizzandone di più, facilito la fermentazione, tutto qui. Ma in laboratorio dico sempre, 20 grammi per chilo di farina è più che sufficiente, per levitazioni lente è un po' più lunghe, fino a 50 grammi per levitazioni veloci. Vaniglia in polvere o vaniglia bacca, burro morbido temperatura ambiente. Il burro, miscelato molto bene e morbido, e mettiamo il sale, ok, che ho già messo il sale dentro, e un pochettino di vaniglia, quindi sale e vaniglia. E si fa questo impastino che andrà messo alla fine quando abbiamo formato il nostro impasto. Burro per sfogliare in panetto, che dopo lo appiattiamo a 7 mm, lo teniamo da parte. Quindi i ingredienti sono farina, zucchero, latte, lievito, formiamo un impasto magro. Questo qui, 8-10 minuti massimo è già formato, fino alla formazione di una buona maglia glutinica. Poi inseriamo il burro con sale e aromi, finiamo l'impasto. Diciamo un croissant, siccome un impasto magro può lavorare anche meno di un impasto ricco. Se è un impasto ricco, in 20-25 minuti chiudiamo un impasto, un impasto magro anche in 20 minuti. Anche 18-20 minuti. Facciamo il nostro impasto magro e poi appiattiamo il burro. Incassiamo la parte magra con quella grassa e poi diamo le canoniche pieghe. Daremo una piega 4, una piega 3, che è il classico proprio per realizzare un croissant. Ovviamente più pieghe diamo, come ho spiegato, più l'alveolatura sarà regolare uno sviluppo minore. Meno pieghe, più sviluppo. Ad ogni modo anche l'alveolatura qui cambia, perché se una pasta brioche ha un'alveolatura molto fitta e chiusa, perché è ricca di grassi, un impasto croissant tendenzialmente è un impasto che ha alveoli più grandi. Alveoli più grandi proprio perché abbiamo meno burro. E poi viene dato anche da altri fattori, dall'idratazione, da tantissimi fattori. Però in linea generale più burro c'è, più l'alveolatura è chiusa. Meno burro c'è, più l'alveolatura è grande. Ma dipende dall'idratazione, dipende se abbiamo usato un lievitino, una biga, un pulish, comunque qualcosa che aiuti la fermentazione, che spinga. Quindi dipende non solo da questi fattori. Ad ogni modo, quindi noi partiamo col croissant, impasto magro, formiamo la buona maglia, uniamo il burro e poi schiacciamo il nostro burro piatto. Partiamo. Eccoci qua, partiamo. Mi è venuta in mente una cosa. Il malto, ecco il malto non ne ho parlato. Di solito metto sempre il malto dall'1 al 3% per gli impasti lievitati e ricchi di ingrassi, per far sviluppare meglio. Non metto il malto in questa ricetta, il malto diastasico, perché è un impasto magro, viene su velocemente, ma se volete mettere il malto, non sopra l'1% in questo caso. Andiamo con la farina, quindi farina, poi mettiamo lo zucchero da una parte. Sarebbe preferibile non mettere neanche lo zucchero a contatto con il lievito. Ok, mettiamo il lievito dall'altra. Uniamo i liquidi, ne lasciamo giusto, anzi lacchiamo tutta sicuramente, metto tutti i liquidi insieme e abbiamo la nostra vaniglia, sale e aromi da parte che mettiamo dopo. Chiudiamo e formiamo il nostro impastino. 8-10 minuti fino a formare una buona maglia glutinica. Allora vi faccio vedere una cosa, adesso è passato qualche minuto, giusto 4-5, se vedete l'impasto si sta formando, ma ancora si rompe molto facilmente. Ecco, questa cosa non va bene. Bisogna formare un impasto bello elastico, ok? Quindi lo lavoriamo ancora qualche minuto. Perfetto, appena l'impasto inizia proprio a prendere forza, ok? Quindi inizia a fare forza, vedete che si è formata la maglia, uniamo burro, sale e aromi in 2-3 volte. Beh, in questo caso è talmente poco che possiamo metterlo tutto insieme. Perfetto, allora il nostro impasto croissant è pronto, andiamo a vederlo. Allora, l'impasto si presenta liscio, ovviamente un po' meno dell'impasto brioche perché contiene anche meno grassi, ok? Comunque vedete, è un impasto bello liscio, un pochettino meno dell'impasto brioche, ma va molto bene. L'impasto del croissant tendenzialmente comunque è liscio, tende a fare le bolle un pochettino meno di quello ricco come quello della brioche, ma va molto molto bene, così. A questo punto, allora, ci sono delle cose importanti da sapere. Uno, la temperatura dell'impasto non deve superare i 26 gradi. Io tendenzialmente consiglio 22-24 gradi, diciamo, per piccoli levitati, 26-27 per grandi levitati. In linea di massima, non superare i 26, ecco, non bisogna essere dei fiscalisti, ecco qua, 25 gradi. Questo è perfetto, 25 gradi, ok? Se è 25, 26, non bisognerebbe tecnicamente andare oltre 26, ma comunque non ci sono grandi problemi se andiamo anche a 27, eh? Quindi, questo è a 25 gradi e perfetto. Adesso bisogna farlo puntare, dopo vi spiego bene. Ne mettiamo un attimo a parte, prepariamo il burro. Quindi burro, in questo caso, l'abbiamo tirato fuori dal frigo una mezz'oretta fa. Adesso battiamo e facciamo il burro piatto. Perfetto, schiacciamo. Ecco, burro piatto, perché burro piatto? Perché bisogna, innanzitutto non deve essere caldo il burro, ma deve essere, diciamo, si lavora bene tra i 13-15 gradi. Potete anche lavorarlo freddo da frigo, questo qui, però fate più fatica. Ok, quindi, praticamente rendiamo questo burro un rettangolo, in modo tale che domani incassiamo nell'impasto. Quindi, lavoriamo un po' così. Mi raccomando, scegliere un burro buono, un burro bavarese, un burro delle Alpi, burro di Alpeggio, non un burro bianco bianco, sennò sa di formaggio. Ok. Mettiamo così. Perfetto. Ok, burro tirato a circa 7 mm di spessore, lo pariamo bene, in questo modo. Lo rifiniamo in questo modo qui, così, in modo tale a creare un bel rettangolo. In commercio ci sono varie aziende che hanno burri tecnici già pronti. Ok, vedete? Perfetto. Impacchettiamo il nostro burro, in questo modo qua, così, e lo teniamo in frigo. E il burro piatto è pronto per l'incasso di domani. Il nostro impasto, invece, si prende, si mette all'interno di un contenitore, ok? Allora, io consiglio, innanzitutto, impellicoliamo in modo tale che non si secca la superficie, ok? Così. Il contenitore, io ho questo di contenitore, ma voi, se avete dei contenitori, magari più bassi e più larghi, a forma di rettangolo, ancora meglio. Lo schiacciate bene, lo piattite bene, formate proprio già un rettangolo, ok? Così è più facile da lavorare. Ma sennò va bene un contenitore normale, dopo lo lavoriamo al mattarello. Contenitore, allora, mezz'ora, un'ora fuori dal frigo, tempo che parte la levitazione, si chiama fase di puntatura. Potrebbe volerci anche due ore se fa freddo, quindi la fase di puntatura, mi rendo conto che ci sono persone che prendono e mettono subito in frigo, ma questo non va bene, perché se ve lo mettete subito in frigo e magari la temperatura non era 26 gradi, l'impasto non sviluppa e domani ve lo trovate ancora non lievitato, e poi il secondo impasto non vi viene bene. Quindi, fare iniziare a puntare, cioè si deve vedere un aumento di massa, ok? La pasta si rilassa, ma c'è un aumento di massa, mezz'ora, un'ora. C'è chi lo porta direttamente al raddoppio, se si vuole essere più sicuri, e poi si mette in frigo tutta la notte. L'indomani deve essere ben sviluppato. Diciamo, almeno raddoppiare, io preferisco al triplico, una massa bella sviluppata. Così i nostri croissant e i nostri prodotti che faremo saranno più leggeri, più alveolati, più profumati. Non troppo, ovviamente, se la fate lievitare in eccesso, dopo diventa quasi acida, perché il lievito, ovviamente, fermenta ed è eccessivo. Quindi, comunque, deve svilupparsi. Un raddoppio, un triplico è l'ideale. C'è chi anche si può fare metodo diretto, cioè si fa l'impasto, lo incassiamo, lo tiriamo subito, ma non vi verranno dei bei croissant belli alveolati, belli grandi. Sono un po' più gnocchi, un po' più chiusi. Insomma, preferisco il riposo notturno. Quindi, adesso lo lascio un'oretta qui. Come vedo che ingrandisce un po', ok? Una volta e mezza, ma anche al raddoppio si può mettere in frigo. E domani, con la pasta fredda, burro tirato fuori dal frigo, in estate 15 minuti prima, in inverno mezz'ora, un'ora prima, lo incassiamo, forniamo i nostri croissant e magari qualche panna cioccolà. E vediamo quindi come si realizza. Quindi io tra un po' lo metto in frigo e ci vediamo domani. Eccoci qua, è mattina e siamo pronti con il nostro impasto croissant. Allora, l'impasto, come potete vedere, ha sviluppato, ok? Una volta che l'ho messo... Ah, ecco, una cosa importante. Siccome qui non c'è malto, la fase di puntatura è leggermente rallentata. Se magari in un impasto con malto si vede che inizia a sviluppare prima, quindi può essere messo in frigo prima, qui bisogna aspettare leggermente di più, perché ovviamente non ha il malto e quindi lavora più lentamente. Comunque sì, è bello sviluppato. Burro ho tirato fuori dal frigo, adesso l'ho tirato fuori da un quarto d'ora. Nel frattempo che parliamo, eccetera, questo arriva in temperatura. Mi raccomando, il burro che deve essere plastico. Vedete, adesso è ancora troppo duro. Lo lasciamo un attimo sul tavolo e questo arriva in temperatura. Allora, impasto del croissant. Odore leggermente acidulo, però sa di dolce, un po' alcolico. Fermentazione del croissant. Come vi dico, ho utilizzato un contenitore alto che ho quello a disposizione. Se riuscite a utilizzarne un po' più bassi, un po' più larghi, è meglio, avete già la forma, diciamo, tutto qui. Quindi cosa facciamo? A questo punto, un po' di farina. Tiriamo l'impasto, lo sgonfiamo e prepariamo un rettangolo. Ecco, molto importante, come dico, la farina che di solito utilizzo è una manitoba, soprattutto in laboratorio, 13-13,5 di proteine. Se siete a casa e volete farla in maniera più semplice, la tagliate un po' con la farina debole, un quarto, massimo metà, e lavorate meglio. Però, ve lo dico, se utilizzate impasti ricchi, tagliando con la farina debole, non tiene tutti i grassi, eh. Perfetto. Facciamo un rettangolo. Quindi Prendiamo il nostro burro. Allora, il burro deve essere plastico. Andiamo a vedere cosa intendo per plastico. Cioè questo. Vedete, si piega ma non si rompe. Questa è la sua plasticità. A questo punto, cosa facciamo? Tiriamo un po' più rettangolare la pasta. Un po' di più, un pochettino. Così. E mettiamo il burro in centro. Così. Perfetto. E incassiamo al libro. Incassare al libro vuol dire uno e due. Vedete che è corto? Ok? Quindi vuol dire che ancora la pasta va tirata un pochettino. Non tanto, eh. Non esagerate perché se la tirate troppo poi avete dei problemi che vi avanza troppa pasta. Meglio tirare un po' più la pasta qua in centro che magari averne troppa. Ok? Perfetto. Tirate e chiudiamo al libro. Così. Incasso al libro. Vedete? Perfetto. A questo punto giriamo la pasta. E vi faccio vedere una cosa. Se volete essere ancora più perfezionisti, fate dei tagli laterali. Facendo dei tagli laterali, andiamo a allentare un po' le tensioni. Ok? Vedete? Si taglia. Tagliamo ancora un po'. Non vi preoccupate che non esce il burro. Vedete? Si allenta un po' la pasta. Perfetto. A questo punto schiacciamo un po' così. Incassiamo bene il burro. Perfetto. E tiriamo dei bei rettangoli lunghi. Un po' di farina senza esagerare, eh? Un po' di farina senza esagerare. Basta. Siccome facciamo una piega da quattro, andiamo a tirarla un po' più sottile. Perfetto. Se vogliamo essere veramente precisi, tagliamo un po' le estremità un pochettino qui. Se siamo in laboratorio, li mettiamo in mezzo per non fare scarti. Se siamo anche a casa, però questa è una dimostrazione, li levo proprio. Solo per farvi vedere come si fa in maniera precisa. Quindi abbiamo la nostra pasta. E facciamo una piega da quattro. Quindi lembo fino a un quarto qui. L'altro fino a tre quarti, così. Anche un po' meno. Un quarto, tre quarti. Vedete? Una parte fino a tre quarti, una parte fino a un quarto. Perfetto. A questo punto. Perfezioniamo bene, così. Ok? Ribaltiamo sopra. Piega quattro. Uno, due, tre, quattro. Ok? Andiamo di qua. Uno, due, tre, quattro. Ok? Perfetto. A questo punto schiacciamo leggermente. Facciamo dei tagli laterali per rallentare un po' la tensione, così. Vedete? In questo modo. Non vi preoccupate se si apre un po', non succede nulla. Ok, adesso andiamo a riposo in frigo. Ok? Riposo in frigo di un'ora e poi diamo un'altra piega a tre. Quindi piega da quattro, piega da tre. Molto importante, riposo in frigo, questa pasta è una manitoba, quindi un'ora. Un'ora ogni piega, oppure ogni due pieghe, come ho fatto vedere nella brioche. Ma il concetto di base è quando la sentite tesa, va fatta a riposare. Se usate una farina un po' più debole, ad esempio un 12% di proteine, i riposi possono essere un po' più lenti. Cioè, magari un quarto d'ora di riposo è già sufficiente. Farine più deboli, quindi fanno meno forza. Farine più forti, fanno più forza. Andiamo in frigo e ci vediamo tra un'oretta. Ecco qua, perfetto. La pasta ha riposato un'ora. Adesso la tiriamo e diamo un'altra piega da tre. Quindi piega da quattro, piega da tre. Piega da quattro, piega da tre, vuol dire uno sviluppo maggiore. Alveolatura meno regolare. Manca uno sviluppo maggiore. Tre pieghe da tre, sviluppo sicuramente più regolare e più uniforme. Un po' di farina per lo spolvero, non in eccesso, mi raccomando. E quindi andiamo a tirare la nostra pasta. Leggermente prima la tiriamo in questo senso, che l'allarghiamo. Allora, molto importante, si tira sempre dalle parti aperte. Non vi fate confondere dai tagli laterali. Questi sono chiusi, ok? Io ho fatto i tagli laterali, ma non vi dovete confondere. Le parti aperte sono queste qua. Queste qua, dove vedete il burro così, vuol dire che queste erano le parti chiuse. E si tira sempre dalle parti aperte. Quindi, tiriamo così. Perfetto. A questo punto l'abbiamo tirata abbastanza sottile. Quindi, piega a tre, uno, due, due gesti, tre strati. Così. Uno, due, tre. Vedete? Perfetto. A questo punto, taglio laterale ancora per allentare la tensione. Di qua. Di qua. In frigorifero, un'altra bella oretta che si riposa. Poi diamo l'ultima mandata e formiamo i nostri croissant e pan a cioccolà. Perfetto. Andiamo in frigo e ci vediamo fra un'ora. Perfetto. Perfetto. Ecco qua. Andiamo a creare i nostri croissant e pan a cioccolà. Allora, molto importante. La pasta ha riposato un'ora e deve essere bella rilassata. Soprattutto se usate una farina forte. Ok, un po' di farina sotto e sopra. Andiamo a tirarla sempre dalle parti aperte. Non vi sbagliate. Queste sono le parti aperte. Ok. Questi sono i tagli laterali. Non vi sbagliate. Andiamo quindi a stendere la pasta. Allora, siccome facciamo delle belle tirate da 28 centimetri, 30, l'allunghiamo anche di qua. Ok? Quindi giriamo la pasta e l'allunghiamo per l'altro senso, un pochettino. Poi continuiamo da questa parte. Perfetto. Ok. Abbiamo tirato la nostra pasta a 3-4 mm. Allora. 30 centimetri d'altezza. Lo voglio fare bello lungo, ok? In pasticceria levitata mi sembra che ho fatto 28. Diciamo che è un croissant bello arrotolato. Facciamo una dimensione bella lunga. Il massimo mi sembra si può arrivare a 35, ok? Allora, facciamo così. Adesso tiriamo ancora un pochettino la pasta. Perlomeno questa metà. Perfetto. Una volta tirata la pasta la facciamo rilassare un pochettino. Cosa vuol dire? Che se no si aggrapperebbe al banco e la facciamo rilassare. Poi. Allora, per il pan a cioccolà la dividiamo in due questa pasta. Così facciamo metà pan a cioccolà, metà facciamo i croissant. Allora, facciamo una cosa. Pariamo bene. Così. Poi. Base 8 il pan a cioccolà. Ci deve stare dentro questa. Perfetto. Base 8. Facciamo l'altra. Ok. Facciamo magari tre pan a cioccolà. E il resto croissant. Perfetto. Pana a cioccolà base 8. E tagliamo dei rettangoli 8 centimetri di base e di altezza in linea di massima bastano già 15 centimetri, 16. In linea di massima è così. Più lo fate lungo, più ovviamente vi viene un mega pan a cioccolà. Ora, senza esagerare, io direi proprio al massimo faremo un 20 centimetri. Ok. Li facciamo un po' XL. Va bene? Quindi facciamo così. Tagliamo fino a qui. Senza esagerare, diciamo, di grandezza. Poi magari con questi qua vi faccio vedere come si fa una forma per un danese. Ok. Mettiamoli da parte. Quindi pana a cioccolà come si fa? Semplicemente stecca di cioccolato. Stecca di cioccolato. Questa è una barretta classica da supermercato tagliata a fette, se non trovate le stecche. Poi andiamo a girare. Uno. Seconda barretta. Così. Due. Giriamo. Schiacciamo un attimo. Pana a cioccolà. Ok. Questo ovviamente è un mega pana a cioccolà. Non è un pana a cioccolà, diciamo, da laboratorio. È proprio casalingo. E lo mettiamo sulla teglia. Adesso vi faccio vedere. Ricorda un po' più grandi. Dai. Un po' più casalinghe così. Ok. Quindi pana a cioccolà. Mettiamo sulla teglia. Ecco, una cosa importante. Questa parte, ok, per non farla aprire, va sotto. Io vi consiglio di schiacciare un po'. Schiacciate un po', lo mettete in teglia. Ok? Perfetto. Poi, facciamo anche l'altro. Quindi, uno. Altra stecca. Due. Giriamo. Schiacciamo un po'. Pana a cioccolà. E mettiamo in teglia. Facciamo anche l'altro. Uno. Altro cioccolato. Così. Ci sarebbe anche un altro modo da fare, ma adesso lo vediamo solo questo, eh. Perfetto. E mettiamo in teglia. Facciamo tre pana a cioccolà. Così. Per il croissant, invece, facciamo così. Tiriamo un po' più sottile. Perfetto. Per il croissant, invece, facciamo base 10. Quindi, questa è un 23. Perfetto. Quindi, base 10. Tiriamo qua. 10 centimetri. 10 centimetri qua. Ok? Se avete una rotella tagliapasta, ovviamente, meglio ancora. Perfetto. Quindi abbiamo base 10, base 10. Andiamo in mezzo. E tiriamo sulla punta. Vi faccio vedere con una rotella. Quindi, base 10, base 10. Abbiamo detto. Così. E segniamo la base. Poi andiamo in centro. Su, 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 su. Segniamo la punta. Ok? Perfetto. A questo punto, tagliamo dei triangoli. Poi, con queste parti, vi faccio vedere cosa fare. Perfetto. Quindi, a questo punto, abbiamo la pasta. Allora, se è molto tesa, la fate riposare un po' in frigorifero, coperta con pellicola. In questo caso, procediamo. Non è neanche eccessivamente tesa. Un po' lo è. Schiacciamo un po' la punta. Arrotoliamo all'inizio, un po' così. Giriamo, giriamo, giriamo. E colpo. E mettiamo sulla teglia. Così. Ok? Quindi, tiriamo la pasta. Schiacciamo. Un po'. Se è molto tesa, metteteli in frigorifero. Giriamo, giriamo. Giriamo. Così. Questi ovviamente vengono dei grandi croissant, eh. Generalmente una pezzatura da laboratorio è 70-80 grammi. Sto facendo un po' più casalinghi, eh. Aumentiamo un po' la lunghezza. Così. Schiacciamo. Aumentiamo un po' la base. Giriamo. Giriamo. Colpettino. Così. Ok? Pana, cioccolà e croissant. Questi vengono belli grandi, eh. Perfetto. A questo punto mettiamo la pellicola e in forno con luce accesa fino a farli sviluppare molto bene. Un'ora e mezza, due ore, 27-28 gradi. Se siete in laboratorio, ferma a lievita professionale, 75 RH di umidità, vuol dire relative humidity, e 27-28 gradi. Fino a che sviluppano. Perfetto. Intanto le mettiamo da parte. Se vi avanzano dei quadrati, come in questo caso, vi faccio vedere cosa si può fare. Pariamo bene. Prendiamo una teglia. Allora, si può fare in questo modo qui. Se volete mettere, ad esempio, possiamo mettere dopo in mezzo la confettura o la crema pasticcera, vi faccio vedere dei danesi che si possono realizzare in questo modo. Cioè, prendiamo il quadrato, schiacciamo in mezzo, in questo modo qua, schiacciamo così e otteniamo questa forma. Li facciamo lievitare un po', non molto, se no si aprono. Mettiamo in mezzo la confettura, la crema pasticcera, quello che vogliamo, e abbiamo una forma un po' diversa. Anche qui. In mezzo così. Schiacciamo e mettiamo qui. Anche qui. In mezzo così. Schiacciamo. E anche qui. Prima di andare in forno, mettiamo in mezzo la confettura o la crema. Poi, per queste parti qui, invece, possiamo fare tranquillamente, ad esempio, delle trecce, come ho già fatto vedere. Quindi, si gira la pasta in questo modo qua. Si gira, gira, gira. Trecciolina. Così. Si gira la pasta. Gira, gira, gira. Così. Perfetto. Questi qui, invece, che sono dei croissant, ovviamente che non è proprio la forma ideale, senza fare sprechi, senza buttare, vengono dei croissant un po' più piccolini. Allarghiamo leggermente la base, in questo caso, che non è della misura giusta. In modo tale che lo allarghiamo. Lo allunghiamo in questo modo qua. Colpetto. Qua andiamo un po' meglio, facciamo questo lavoro qui a mano. Che ho visto che se no si apriva. Molto importante. Allunghiamo. Giriamo. Colpetto. Ok? E mettiamo qua. Perfetto. Questi qua li mettiamo dopo a lievitare. Ma noi ci concentriamo su questi, che erano quelli che volevo farvi vedere. Questi qua li mettiamo da parte. Quindi, perfetto. Ci vediamo quindi fra un'ora e mezza, due, quando sono raddoppiati. Li lucidiamo con tuorlo e panna. E andiamo in forno e li vediamo dopo da cotti. Ci vediamo dopo. Eccoci qua, perfetto. Hanno lievitato. Vedete? Perfetti. Guardate che belli. Concentriamoci su questi prodotti. Questi qua, invece, ovviamente, vi spiego una cosa. Io adesso, con una piccola tirata, vi faccio vedere due prodotti. Ed è ovvio che avanza un po' di pasta. Perché? Se voi vi concentrate a fare sotto solo un prodotto, Ovviamente, tagliate la lunghezza, li volete fare tutti croissant, misura tutti per croissant. Ovviamente non fate scarto pochissimo, perché scegliete la misura e fate tutto il prodotto uguale. Ovviamente, lavorando panna cioccolà e croissant, una misura viene di una misura e l'altra di un'altra. Quindi ci sarà qualche scarto in più. Però non si butta mai o cornettini, girelline, o in questo caso mini danesi, qualcosa si può fare. In linea di massima, questi mini danesi, a farli bene bene, ve lo dico, si fa misura 10x10 o 12x12. Più grandi, perché più grandi sono, più è facile che non si aprano in cottura. Più piccoli sono, più fanno forza, più si aprono in cottura. Però ad ogni modo, comunque, vanno bene anche così piccolini, per uso domestico. Allora, molto importante, vedete che tendono ad aprirsi questi? Questi tendono ad aprirsi perché è così. Quindi, o come nella lezione dei danesi, in pasticcia levitata, metto una pesca e quindi tendono ad aprirsi perché c'è una pesca sopra. Altrimenti schiacciate con il pollicione, andiamo dentro e facciamo proprio così. Andiamo a vederlo bene bene. In mezzo, schiacciate proprio in mezzo. In modo da creare la pasta un po' più schiacciata, che tenda a non aprirsi. Questi qui nel centro vado a mettere, in casa avevo un po' di confettura di frutti di bosco, ma potete mettere crema pasticcera e quello che volete. Si mette un pochettino di crema, tendenzialmente. Così. Ok? Si cuoce e una volta cotti, poi di solito si mette della frutta fresca. Di solito questa qui si usa una pasta danese, che è un'impasta un po' più ricca di burro e di solito anche di zuccheri, ma in questo caso va bene così. Di solito la pasta danese ha anche le uova, a differenza del croissant. Le gireline vanno bene così. E questo è un croissant. Ecco, se vedete, questo è un croissant. Vedete com'è sostenuto? Cioè, ecco, la cosa che voglio far vedere è che io li chiamo tipo gommoni, canotti, perché sembrano di plastica, no? Sembrano molto turgidi. È così che deve essere. Se li vedete mollicci, cioè ad esempio guardate questo pane a cioccolà, lo vedete com'è duro? Cioè, sembra turgido. È così, perché se no in cottura si smostrano se fate impasti troppo idratati. Quindi, vedete com'è? Si può prendere con le mani. Questa è una misura proprio da laboratorio piccolino, ok? Questo qui invece è una misura un po' più grande. Allora, molto importante. Panna a cioccolà invece cosa facciamo? Facciamo un composto di panna e tuorlo. 50% di panna e 50% di tuorlo. Andiamo a bagnare leggermente la superficie, così, per renderlo più croccante, più lucido, più bello. Potete usare anche l'uovo sbattuto con un goccio di latte, per uso domestico, eh. Però panna e tuorlo esce sicuramente più bello. Quindi andiamo a lucidarlo, così, bene, bene. Non in eccesso, se no vi fa la pozza tipo frittata. E andiamo così. Ecco, questi qua sono grandi, eh, ve lo dico. Sono misure grandi che non sono da laboratorio, ma sono per uso domestico. Un bel panna a cioccolà. Ecco qua, il nostro croissant, panna e tuorlo, anche qui, lo lucidiamo. Vedete com'è sostenuto? Ecco, molto importante. Deve essere sostenuto e deve essere bello, io dico turgido, bello. Effetto un po', che sembra quasi di plastica, ok? Perfetto. Ovviamente più farina è forte, diciamo un 13, 13 e mezzo, più questo risultato ce l'avete facilmente. Più usate una farina debole, perché molto spesso vedo che si usano farine troppo deboli per fare viennoserie. Attirare è più facile, ma il risultato è meno bello, eh. Perfetto. Mettiamo anche un po' di doratura, leggera, leggera, sulle nostre girelline. Un po' anche su questo croissant, piccolino. Perfetto. Ecco, io vi sto facendo anche qui un po' sul mini, chiamiamolo danese, ma è un impasto croissant, e poi la forma di solito è questa qua, si usa per i danesi, eh. Ok, perfetto. Belli dorati, piccolini. Qui potete metterci anche una pesca. Una ciliegia piccolina, una albicocca è troppo grande, una albicocca sciroppata. Magari una pesca, una pesca a metà, in mezzo, ok? Perfetto. Forno preriscaldato, 170, 170 gradi, 175, ventilato, 18 minuti. Forno statico, 180, anche 190, 17-18 minuti. Allora, questa è una pezzatura più piccola, ovviamente cuocere in meno tempo. Questa qui è una pezzatura più grande, cuoce in più tempo. Io cuocerò prima questi, e poi questa qui, ok? In modo tale che la cottura fatta bene, mi concentro su questi, poi dopo cucino questi che ci vorranno un... Questi circa 12 minuti sono cotti, 18-20 minuti questi qui, ok? Andiamo in forno e ci vediamo dopo quando sono cotti. Eccoci qua, perfetto, sono usciti dal forno, bellissimi. Guardate qui che bello, ne prendo uno. Vedete che bello questo pan a cioccolà? Molto bello. Ovviamente è una versione più XL, più casalinga. Anche croissant. Adesso andiamo a vedere un po' di cose che vi spiego. Vedete che bello? La sfogliatura, eh? Soprattutto il croissant è più sbricioloso, si rompe prima. Perfetto. E abbiamo i nostri danesi. Ok, in verità è la pasta croissant. E adesso mettiamo un po' di frutta per decorarli. Prima mettiamo un po' di bagna. Ho fatto 200 g di zucchero, 100 g di acqua, ho fatto bollire e raffreddare. E andiamo a lucidare un pochettino i nostri danesini, proprio per rendere un po' più lucidi. Ok? Molto importante. I danesi, in questo caso, anche se sono fatti con pasta croissant, vanno infornati non troppo tardi, eh? Perché se li infornati troppo tardi, dopo il problema è che si aprono troppo in cottura. Vanno infornati un pochettino prima. Il nostro pane a cioccolà, bellissimo. A me il pane a cioccolà piace tantissimo. È un prodotto molto bello. Ok? Ok, così. Un po' di lucido anche qui, perché il lucido rende più belli e più golosi i nostri prodotti. Perfetto. Andiamo a vedere un po' la differenza tra pane a cioccolà, croissant o pasta brioche. Allora, la differenza, mentre monto questo dolce, vi faccio vedere. Allora, girelline, vedete, proprio semplici. Queste così vanno già bene. Poi, se volete, potete mettere un po' di crema pasticcera, eh? Il nostro croissant, versione normale, piccolina. I nostri danesi. Danesi. Mettiamo un po' di frutta, poi facciamo una foto finale, così li vediamo più da vicino. Poi dopo vi racconto la differenza tra una pasta cornetto e una pasta croissant. Ok? Mettiamo un po' di... Così, di mirtilli. Ecco qua. Già così, spennellati con un po' di oro alimentare. Magari mettiamo anche magari una fragolina, eh? Così in centro. Perfetto. Così. Ecco qua, giriamo. Vedete? Eh? Molto belli. Alla frutta. Questi sono i frutti di bosco. Poi, la differenza tra la pasta croissant e la pasta brioche. Allora, la pasta del cornetto, che è una pasta brioche un po' più magra, la differenza è che il croissant sviluppa più regolare. Difficilmente si smostra in cottura. Perché? Perché non ha l'uovo. L'uovo, immaginate, cosa succede quando voi fate un uovo? Che si gonfia, no? Quindi ovviamente si gonfia in maniera più irregolare. Quindi il prodotto tenderà a essere un po' più irregolare di un croissant, perché un croissant non ha le uova e questo succede in maniera minore. Un'altra cosa. Qui non ho messo malto, ok? E infatti è sviluppato bene, non ha bisogno di malto. Però vi dico, a livello anche di pesantezza, cioè voi toccate un croissant, è leggero ovviamente, ma rispetto che se mettete il malto, è un po' meno leggero. Cioè, se voi mettete dai 10 grammi fino ai 30 grammi per chilo di farina per un croissant, è molto più leggero, sviluppa molto di più, ok? Questo è senza malto. Viene lo stesso. Tutti i prodotti vengono senza malto, ma vengono un po' più pesanti, ok? Però questo, se volete, lo volete fare più leggero, potete mettere anche un po' di malto. Direi qui, siccome un impasto magro, 10 grammi chilo farina è sufficiente. Poi, se volete accelerare le fermentazioni, fino a 30 grammi. Andiamo a tagliarne uno. Magari tagliamo questo qui, che è molto bello. Lo mettiamo così, ok? Il nostro croissant, così. E il nostro pan a cioccolà. Perfetto. Ok, andiamo a tagliare un pan a cioccolà. Ecco, generalmente l'impasto del croissant è un po' più sbricioloso. Vedete come si è rotto subito? È un po' più sbricioloso. Però, e adesso è ancora caldo, eh? Però vedete l'alveolatura? Molto bella. Molto, molto grande. Ok? Adesso è caldo, e quindi si rompe tutto. Però, molto, molto bello. Andiamo a vedere. Spostiamo. Vedete come si rompe? Questa è proprio, ecco, la caratteristica del croissant. è anche tutto sbricioloso, si rompe tutto, no? Perché non ha le uova. Le uova, comunque, fanno da collante. Andiamo a tagliare il nostro croissant. Vedete come si sbriciola? È proprio così, eh? È normale. L'alveolatura. Perfetto. Anche questa, molto bella. Li sto tagliando da caldo, non si tagliano da caldi, perché come lo schiacci, si appiccica, ovviamente. Da freddi viene più netto. Bellissimo. Magari tagliamo un pan a cioccolà. Magari tagliamo questo qui. Andiamo a vedere questo. Ecco, tagliato anche meglio, perché ero più comodo. Voilà. Ecco, questo è ancora più bello. Vedete? Alveolatura molto grande, molto bella, eh? Ecco qua. Perfetto. Mettiamo qua. Et voilà. Perfetto. Quindi, la lezione per il croissant è terminata. I nostri, diciamo, danesima l'impasto croissant ha questa forma qui. Il nostro pane a cioccolà, il nostro croissant e le nostre girelline. Perfetto. Bene, se sei interessato quindi ai miei corsi, nel mio sito internet www.andreedigio.it o cliccando qui sotto andrai direttamente ai nostri corsi. I nostri corsi sono interamente online. Abbiamo al momento pasticceria lievitata dove ti insegno a fare tutti i lievitati, anche il laboratorio con tecniche professionali. Dal croissant fino al panettone, la colomba colli-coli, le bresciane, i danesi, le girelle, il pan a cioccolà, i bicolore, e veramente tantissimi prodotti. E abbiamo pasticceria da forno dove ti insegno a fare frolla, come rivestire con tecniche professionali la frolla, il bilanciamento della frolla, le torte, le crostate, i cake che la biscotteria. Al momento stiamo registrando altri corsi, tieniti aggiornato per altre novità. Se sei interessato ai miei corsi, ricordati che con i miei percorsi è anche la mia assistenza nelle versioni full. Quindi qui sotto ti lascio un tasto, iscriviti e ci vediamo dall'altra parte. Ciao!